Allora, eccomi di nuovo qua. Io il video precedente di oggi pomeriggio lo eliminerò, ma non perché sono stata accusata di aver fatto questo video per fare visualizzazione, ma giusto perché era stato uno sfogo momentaneo, perché ero veramente molto arrabbiata. E non perché ho paura che mi segnalate il video, non mi interessa. Il video lo potete segnalare, l'avete segnalato tranquillamente, non me ne importa niente. Lo eliminano solo perché, per farvi capire che a me delle visualizzazioni non me ne importa. Quindi, andate a riferire voi che avete commentato malamente, perché sì, io ho fatto il video, voi mi accusate che era dissing, però voi avete fatto peggio che siete venuti in un canale dove nemmeno io vi conosco a venire a commentare. Ma va bene così. Ci vediamo.